Noi siamo il Vergani Navarra di Ostellato e Sia di Malborghetto, siamo due scuole che è lo stesso plesso, comunque è la stessa scuola, siamo in due posti differenti. Noi produciamo tutti questi prodotti, i vini, il miele e le piante aromatiche. Allora, i vini abbiamo la nostra cantina, abbiamo il merlot, il trebbiano, poi noi produciamo anche il Sauvignon e il Fortana, solo che in questo momento non li abbiamo perché li abbiamo finiti. Il miele invece abbiamo le arnie vicino alla nostra azienda, miele di tiglio e miele millefiori, che il millefiori è più scuro perché è fatto da più piante e più fiori e le api quindi fanno più zuccheri e quindi il miele è più scuro, mentre il tiglio è solo un ingrediente, il tiglio, e quindi lo zucchero è quello e la colorazione diventa quella. Mentre le aromatiche le produciamo nella nostra serra, fino alla prima superiore, ci insegnano come coltivarle e come renderle più belle, al meglio.